A me quella nuova mi sembra un mezzo di stivale. Io invece ho visto un'onda, una doppia onda. Sì, quella è vero, quella è una doppia onda. Invece a me quello sembra una papera con una gamba sola. A me quello invece mi sembra una bocca di un coccodrillo. Io invece quello che ho visto mi sembra un cavalluccio marino. A me quello lì mi sembra una palla senza cento, forse un meteorite. Un pesce a me quella lì mi sembra. Invece io ho trovato un stivale gigante. Io invece penso che le nuvole si sono fatte di zucchero filato anche perché gli aerei ci passano in mezzo. Io ho trovato l'asteroide di calasmo, un serpente, un cuore alicontrario, leone e le isole Galapagos. Io ho visto un razzo. E io ho visto le Galapagos. Dove è un razzo? Quella? Io invece ho visto una forma dell'Italia. Io invece ho visto un dragone con un corno. Io ho visto un altro spiagno. Io ho visto una bomba con un osso. Un demonio. Io invece vedo là un pesce. Io ho visto lo scheletro del pesce. Io ho visto le mure. Sì, quello è lo scheletro del pesce.